Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Mariano. Oggi vi presento 15 modi per usare al meglio chat CPT. Chat CPT è questa rivoluzione che è stata fatta dall'intelligenza artificiale, però molti di noi inseriscono i prompt, quelli che sono detti, e cioè le domande da fare da chat CPT, un po' così a caso. Invece esistono delle regole ben precise e dei trucchi che possiamo utilizzare affinché le risposte siano più orientate verso ciò che vogliamo. Quindi seguimi fino alla fine perché magari alcuni di questi non li sai. Scrivimi qui nei commenti appunto se già li conoscevi tutti, se vuoi iniziare ad utilizzarli e tutte le tue considerazioni. Inoltre ti chiedo di iscriverti al mio canale, questi sono tutti gli altri miei social, ti aspetto su Instagram ed anche su Telegram. Benissimo, iniziamo velocemente. Eccolo qui le risposte nel giusto formato. E cioè possiamo chiedere a chat CPT di fornire i dati, ad esempio in tabelle, in elenchi puntati, in separati da virgole e così via. Ad esempio inseriamo un prompt del genere. Mi fornisci le città più popolose al mondo e vediamo che lui ci darà la lista delle città più popolose al mondo. Oppure posso dargli quest'altro prompt, e cioè mi fornisci una tabella con le città più popolose al mondo, con il rispettivo numero di abitanti e densità. Vedete come lui mi fa proprio una bellissima tabella. E poi la posso utilizzare per tante altre informazioni, ad esempio copiarla ed incollarla su Excel, eccetera, eccetera. Il secondo trucco che ti dico è agisci come. Fondamentale. Dobbiamo dire a chat GPT di mettersi nei panni, di spiegare il contesto in cui vogliamo le risposte. Quindi tutti i nostri prompt dovrebbero contenere due cose. Il contesto ed inoltre il mettiti nei panni di. Facciamo subito un esempio. Se io gli dico mi scrivi un paragrafo sull'intelligenza artificiale e dunque lui adesso sta iniziando a scrivermi un po' di righe riguardo l'intelligenza artificiale. Oppure potrei dirgli, e quindi mi metto qui e modifico il mio prompt. Gli dico agisci come, anche mettiti nei panni di, uno scrittore di podcast che deve fare un podcast sull'intelligenza artificiale. E gli dico di ridarmi la risposta. E quindi vedete come innanzitutto io ho messo mettiti nei panni di e poi gli ho dato il contesto. E cioè voglio fare un podcast. E quindi guardate come lui mi dice e benvenuti in un nuovo entusiasmante podcast del podcast AI Insight. Addirittura si è dato un titolo e poi mi ha dato tante altre cose. Guardate come la risposta è molto più articolata perché gli ho dato il contesto e soprattutto a che cosa mi serve. Mettiti nei panni di. Andiamo avanti e diciamo un'altra cosa. Cioè spiegare in maniera facile. Noi possiamo dirgli il livello di difficoltà a cui vogliamo che le risposte siano. E quindi ad esempio gli possiamo chiedere spiegami il secondo principio della termodinamica. E quindi lui adesso mi sta dando delle informazioni sul secondo principio della termodinamica. Ma se voglio diminuire il livello di difficoltà gli dico spiega il secondo principio della termodinamica ad un bambino di 10 anni. E quindi guarda qui come ti dice ciao piccolo amico sai che il secondo principio della termodinamica ecco error network perché ho una rete veramente terribile. Guarda scusami lo sta rigenerando ciao piccolo amico oggi ti parlerò di un principio speciale chiamato secondo principio della termodinamica e ti fa degli esempi appunto immagina di avere un sacco di mattoncini leghi o vedete come si mette nei panni di una maestra e sta spiegando ad un bambino di 10 anni. Altra cosa importante è che possiamo proseguire nella discussione tenendo presente le risposte precedenti. Che cosa ti voglio dire? Cioè se torno sopra immaginiamo di avere una discussione solo per questa cosa qui e quindi vado su una nuova chat e mi metto qui mi fornisci la tabella delle città più popolose al mondo eccola qui e poi magari torno su quella dove stavo vedete? Questa è quella dove stavo precedentemente del piccolo amico. Ora vado sulla nuova chat che è questa che due giorni fa invece gli avevo chiesto le città più popolose al mondo vedete come lui adesso me l'ha scritto in maniera diversa vedi? Non in forma tabellare ma me l'ha scritta così ed ora magari gli voglio dire di mettermi in ordine alfabetico le città e quindi vedete poi ho scritto anche male ma guarda come riprende l'elenco di prima e me le mette in ordine alfabetico ora se gli dico mi fai una tabella in ordine alfabetico spero davvero che lui mi rifaccia la tabella di prima che mi mette ecco vedete città del Messico, Delhi, Istanbul, Lahore eccetera eccetera guarda come me li sta mettendo in ordine alfabetico poi ad esempio li potrei ordinare per densità eccetera quindi che cosa ti voglio dire? ti voglio dire che tu puoi riprendere delle conversazioni vecchie e continuare la tua conversazione proprio per questo io ti dico ad esempio che è bene rinominare e quindi questo è un altro consiglio che ti do è bene rinominare le discussioni vedete questa si chiama città popolosa al mondo questo invece si chiama esempi no 15 trucchi la possiamo chiamare in modo che poi io li ritrovo vabbè magari scriviamo bene 15 trucchi quindi clicco lì vedete e ci posso scrivere 15 trucchi in modo che poi successivamente li ritrovo e li ritrovo con un nome che io ho dato quindi non lasciamo a lui che dia il nome ma magari lo posso mettere io altra cosa che ti dico è far generare degli elenchi da conversazioni colloquiali ad esempio immaginiamo di aver ricevuto questa mail ti scrivo questa mail per chiederti magari qualcuno che ci chiede se puoi inserire all'interno dell'allegato che ti ho mandato una breve descrizione eccetera poi quando riesci dovresti telefonare inoltre quando puoi scrivi a Giorgio e chiedigli di mettere un nuovo computer come poter fare per una nuova stampante ora se io gli dico di tirarmi fuori un elenco puntato delle cose da fare da questa mail che vedete è in ordine in modo colloquiale quindi chi me l'ha scritta non mi ha dato un ordine di cose da fare o perlomeno non mi ha detto le cose in maniera così sintetica ma me l'ha detta in mezzo a una mail io gli scrivo genero un elenco di cose da fare dal testo di questa mail e batto invio ora guardate come lui estrapola le cose all'interno inserire una breve descrizione all'interno dell'allegato telefonare alla segreteria per capire dove il progetto si è bloccato scrivere a Giorgio ringraziare Romano a nome della persona che ti ha scritto la mail quindi guarda come estrapola e cerca di capire bellissimo ora inoltre abbiamo detto mettersi nei panni di quella è una cosa ora ti dico lo stile invece quindi possiamo dire di generare il testo in un particolare stile ad esempio mi scrivi una poesia con lo stile delle favole e allora lui mi scriverà una poesia utilizzando lo stile lo stile del linguaggio delle favole c'era una volta in un mondo incantato dove creature strane vivevano nascoste eccetera 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 quindi lo stile lo possiamo dare ma guardate che ad esempio potremmo dargli lo stile di alcuni uno stile pulp oppure uno stile horror eccetera eccetera quindi possiamo davvero cambiare lo stile in maniera molto interessante andiamo ad esempio su questa pagina di Wikipedia sulla storia dell'Iran e io mi debbo leggere tutta questa parte qui anzi tutta questa parte qui il paleolitico l'età del bronzo l'antichità classica magari l'impero dei parti eccetera l'Iran anche l'Iran medievale va mettiamolo fino a qui io vado di là gli dico di riassumermi questo testo della storia dell'Iran oh mi raccomando io non te l'ho detto ma l'avevamo detto in altri video precedenti se batti invio lui ti dà il prompt invece io batto shift invio magari anche due volte poi faccio ctrl v visto che ho incollato tutto quello prima guardate quanta roba io gli avevo incollato ed ecco qui che lui me lo sta riassumendo oppure potrei dirgli di mettermelo anche in un elenco puntato e quindi lui adesso dopo che mi ha riassunto tutto quel testo molto molto lungo io gli dico di mettermelo in un elenco puntato e quindi vedi come mette paleolitico neolitico età del bronzo eccetera eccetera quindi in maniera ancora più specifica benissimo ora guardate questa cosa che posso fare torniamo alla popolicità delle città delle città al mondo io potrei condividere questa chat vedete come qui in alto a destra c'è condividi quindi posso mandare questa chat ad alcune persone ad esempio copiando il link e mandandogli le mie ricerche quindi questo è un altro modo magari per condividere con qualcun altro le ricerche che stiamo facendo ora non so a quanto siamo arrivati penso a nove penso ma non so se è così un'altra cosa che posso fare è il decimo trucco il decimo suggerimento come posso cambiare qui i settings e cioè i temi posso dirgli il tema del sistema oppure dark come quello che ho io oppure light e quindi cambiare magari tutti i temi del mio sistema guardate ad esempio lo metto nero e vedete come viene adesso nero questa è una cosa che sicuramente già sai ma il fatto di poter scrivere del codice con chat cbt puoi scrivere codice veramente di ogni tipo chat cbt ho fatto prove con altri sistemi è davvero imbattibile per molte cose ad esempio mi scrive uno script python per ordinare una lista di 10 elementi in ordine alfabetico e gli chiedo di farlo a lui certamente spero che mi dica eccolo qui guardate come ti dà non solo la lista degli elementi ma ti dà anche come si fa ad ordinare la lista dei 10 elementi quindi adesso io gli ho dato da fare una cosa molto molto semplice ma ti assicuro che anche cose molto molto complesse lui riesce a farle cambiare il tono di una conversazione immaginiamo di aver scritto questa email ciao Enrico ti scrivo per chiedere se puoi modificare il sito che riguarda la mia pagina personale ti chiedo inoltre se puoi mandare il link quando hai finito e io gli scrivo cambia il tono in maniera formale magari l'ho scritto in maniera troppo informale e quindi questa mail guarda ciao Enrico spero tu stai bene volevo chiederti un favore sarebbe possibile apportare alcune modifiche guarda come lui me la sta scrivendo in maniera più formale rispetto a quella informale che avevo scritto io imparare velocemente che cosa vuol dire guarda questo prompt mi puoi fare una lista delle disequazioni che si debbono sapere per affrontare lo studio di analisi 1 vediamo la lista delle disequazioni che secondo lui io devo sapere se prima di iscrivermi magari ad ingegneria devo sapere le disequazioni lineari le disequazioni quadratiche le disequazioni razionali le disequazioni con valore assoluto quelle con la radice quadrata le logaritmiche eccetera eccetera ma ancora di più queste sono alcune cose che potresti incontrare nello studio di analisi 1 ancora di più perché io gli dico mi fai un esempio per ognuna di esse quindi lui adesso mi fa un esempio guarda come addirittura mi mette anche la soluzione quindi poi potrei prendere le equazioni delle disequazioni esponenziali e magari complessarle magari io non so bene fare le disequazioni con valore assoluto allora gli chiedo mi fai 10 esempi sulle disequazioni con valore assoluto magari con difficoltà crescente eccolo qui guardiamo un po' 10 esempi di disequazioni con valore assoluto con difficoltà crescente guardate come lui adesso sta complessando via via tutte le varie disequazioni ed ha ragione guardate come queste le ultime sono di difficoltà crescente potrei dirgli ancora di complessarle ancora di più questo è un esempio per studiare vediamone un altro per studiare ad esempio quello di creare le flashcard questo è un altro modo per studiare che abbiamo visto a volte quando abbiamo parlato di come si studia le flashcard sono delle carte in cui da un lato c'è scritta la domanda e nel retro c'è scritta la risposta quindi guarda come definizione magari sul davanti c'è scritto definizione e tu dovrai nel retro invece il logaritmo di un numero e l'esponente che bisogna dare alla base per ottenere quel numero adesso però io gli dico guarda così non mi piacciono e cioè cosa devo mettere in un lato e cosa in un altro me le separi allora andiamo a vedere se mi separa il lato 1 eccolo qui vedi lato 1 definizione proprietà del logaritmo proprietà del logaritmo e lato 2 in questo modo vedi puoi coprire un lato delle flashcard e verificare la conoscenza ora gli chiedo ancora di più mi fai una domanda e io rispondo una alla volta vediamo un po' e quindi la domanda vedi qual è la definizione di logaritmo di un numero è il numero che devo dare alla base per avere l'argomento vediamo un po' se mi ricordo ancora esatto e poi mi comincia domanda 2 qual è la proprietà del logaritmo che stabilisce che il logaritmo di 1 di qualsiasi base è uguale a 0 eccetera eccetera quindi vedete come non solo mi dà le flashcard ma studia con me ancora l'ultima a espandere la ricerca guardate io gli dico mi dai la lista in ordine cronologico dei film della Marvel e quindi mi faccio dare in ordine cronologico quali sono partendo da Iron Man 2008 e via via giù fino a non so fino a che anno forse mi dà anche quelli futuri no probabilmente mi si ferma al 2021 no perché sappiamo che fino al 2021 è aggiornato ora però ne prendo uno ad esempio magari i guardiani della galassia e approfondisco la ricerca e cioè mi dici gli attori principali di Guardians of the Galaxy volume 2 ed anche il registra e quindi approfondisco via via tutte le ricerche che io sto facendo poi addirittura c'era anche Kurt Russell Van Wendiesel Anela in Groot io sono Groot guardate magari posso prendere Kurt Russell e dire mi dai la filmografia di Kurt Russell e quindi lui mi dà tutta la filmografia di Kurt Russell quindi prendo una ricerca e via via ci metto tante tante altre cose in più che io volevo sapere benissimo spero davvero che questi 15 trucchi consigli su chat cpt ti possano servire per formulare al meglio tutte le domande ed avere le risposte sempre più coerenti ora non mi resta che ricordati di iscriverti al mio canale lasciami qui nei commenti se già tutte queste cose le conoscevi o tutte le altre tue considerazioni non mi resta che augurarti un buonissimo lavoro un ottimo studio anche con tutte queste cose che ti ho fatto vedere e di una vita splendida ciao ciao grazie grazie infinite alla prossima ciao